Benvenuti nella Galassia Rattix. Oggi vi presento Ford Transit Custom Trend, un veicolo versatile ed efficiente che combina i vantaggi dell'alimentazione diesel ed elettrica, rendendolo una scelta eccellente sia per le famiglie che per le imprese. Questo veicolo usato, immatricolato a marzo 2022, è in ottime condizioni e offre un mix unico di prestazioni e praticità. La trasmissione manuale e i 126 CV assicurano un'esperienza di guida fluida e reattiva. Con 73.321 km certificati sul contachilometri, questo Ford Transit Custom è una scelta affidabile per gli spostamenti quotidiani o per esigenze lavorative. Gli interni spaziosi a nove posti e il vano di carico versatile lo rendono ideale per famiglie e aziende. Se cerchi un veicolo pratico ed efficiente in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane mantenendo un equilibrio tra prestazioni ed ecocompatibilità, Ford Transit Custom Trend è la scelta perfetta. Scoprilo su rattix.com Scoprilo su attenzione